dai 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 uoh musica ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video ciao due ospiti speciali ciao comunque vi faccio un gioco sofia prendi una carta questo lo so fare facilissimo ok cos'hai combinato sofi sei sempre tu andiamo avanti ma cosa andiamo avanti con l'esperimento faccia le carte sofia prendi una carta quella che vuoi non farla vedere a luigi no non ti preoccupare queste non sono attaccate prendi una carta quella che vuoi e non farla vedere a luigi ma farla vedere in camera non guardi perfetto adesso ti chiedo di mettere una bella firma per renderla unica e luigi tu ne prenderai un'altra questa di qua non farla vedere a sofia ma falla vedere in camera sofia non guardare adesso tu farai lo stesso firmerai la tua carta di faccia fatto? si perfetto andiamo a disperdere prima la carta di sofia e faremo lo stesso fatto? si con la carta di luigi bene a questo punto andiamo a disperdere ora la cosa difficile non sarà ritrovare una carta ma sarà ritrovare due carte ok? certo però di una cosa mi sono certa siccome sono firmate non potete dirmi bugie proverò a ritrovare le carte le prendo una a caso la prima giro la carta quattro di fiori la mia non era è impossibile che sia la tua e la sua perchè erano firmate ok prendo il quattro di fiori e lo lascio nella mano di sofia sofia ti chiedo di custodire questa carta chiudila e non farla vedere a tutti adesso farò la stessa cosa con te vai la tua carta era nero o rossa? rossa mi stai dicendo una bugia? no sicuro ok era il sei di cuori? no non era il sei di cuori ma non cantare vittoria perchè tanto lo so era firmata va bene farai la stessa cosa ti chiederò di custodire questa carta apri la mano prendi il sei di cuori e chiudila ora volevo fare un gioco speciale per voi che siete speciali secondo me però siccome voi siete anche una coppia a questo punto volevo creare la cosa che sofia ritrovava la carta di luigi mentre luigi ritrovava la carta di sofia infatti se adesso schiocco le dita gira prima piano piano però eh la carta che sofia io neanche cioè impossibile che carta è? incredibile però la devi fare vedere cioè è firmata da luigi veramente? ma io in mano avevo un'altra carta com'è? mentre luigi tu adesso puoi scoprire la tua carta piano piano non ce la faccio dai 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 Vito ma come è possibile una cosa del genere? ma come hai fatto? tu sei un mago lo rimetti lo tieni bene ragazzi con questo folle qui con questo polle qui abbiamo finito l'esperimento spero che questo piccolo effetto vi sia piaciuto se il video vi è piaciuto lasciate un like lo possiamo lasciare un like due like fate un po' di immagine anche voi e lasciate due like altrimenti createvi un canale finto e lasciate due like come dice spolliciate come vichinghi no dai non mi fanno queste cose spolliciate come vichinghi e per il video bella vita è tutto ciao